Questo è uno sparatutto, Shify, diciamo che sembra una bella copia, e brutta anche, di Black Ops 2 e Halo. Non è male, cominciamo con farvi vedere i personaggi. Questo gioco ha vari personaggi, c'è chi ha il GPS, c'è chi ha i droni, c'è chi ha l'invisibilità, lancia razzi, e così via. Parliamo anche delle armi, sono tantissime, sono abbastanza per adesso, essendo che è un gioco ancora in fase iniziale, sarà uscito sia no da due mesi, quindi ne sono abbastanza. C'è l'M4A1, la K47, c'è stanno vari cecchini, fucile a pompa, armi che sicuramente a vista riconoscerete, poi anche nel market ce ne stanno altre. C'è sta la Scorpion, che qua la chiamano Chris, poi c'è sta l'USS-12, il fucile a pompa, arraffica, quello automatico insomma, l'UMP. Ce ne stanno varie di armi. Poi ci stanno qua, queste sono le varie parti delle armi dove potete sbizzarrirvi per tutti i tipi di armi che volete, c'è stato al cecchino, al mitragliatore piccolino, all'arma d'assalto. Gli outfit, il gioco diciamo che prevede, che potete anche comprarli i personaggi naturalmente, non solo Saito ma anche tutti gli altri che stanno qua. Questi personaggi li potete comprare tramite il mercato e gli item. Allora, detto questo, per adesso non è stata ancora implementata il clan, quindi non ci sono clan war per adesso. Ma in custom match puoi trovare partite diciamo create dai giocatori, oppure puoi farti una quick match che sono partite create dal server, appunto per non farti aspettare nella custom. Allora, detto questo, proviamo a farci una partita e vediamo come va. Ah, una cosa, per chi abbia voglia di iniziare il gioco adesso, io consiglierei di mettere il gioco in inglese. Perché con la pace italiana praticamente crasha quando vai a fare il dive, quello che ho appena fatto io. E purtroppo speriamo che lo aggiustino in fretta perché l'italiano ci piace. Ok, io sceglierò Bato, quello con il braccio Lancia Razzi. Qui, in questa stanza si attende, si vota la mappa proprio come succedeva in Black Ops 2. A me piacerebbe una demolizio, ma purtroppo non siamo tutti al mio livello. Ah, io ho fatto questo video, sono livello 23, quasi 24. Ho iniziato a fare questo video più che altro perché ho praticamente scoperto ieri che... Cioè, ho scoperto ieri come si streama. No, se no non l'avrei mai fatto. Niente, se iniziamo la partita, ma vediamo. Intanto mi hanno pochettato su TeamSpeak. Ah, ecco. Ciao, Presidente. Carlo. Ieri sera l'abbiamo parlato. Ciao. Sto streamando su YouTube, quindi stavo soltanto dando delle piccole spiegazioni a chi mi volesse vedere, se c'è qualcuno che mi vede, ma mi sa che non c'è nessuno. Però, detto questo, niente. Ora ti vedo io. Ah, ok. Comunque, aspetta, mo ti posso invitare? Così, facciamo una partita insieme e cominciamo. A me sinceramente mi ha un po' annoiato Blade & Soul. Eh? Perché io sono... Lo mi diverto al coso, al PvP. E il PvM è tutto uguale. Eh, lo so, ma perché non lo sai fare il PvP bene? Eh, lo so, lo so. Purtroppo, vabbè. Comunque, facciamo il dive. Ah, se vuoi vedermi in azione. Ah, intanto vada... Hai messo su Facebook, no? No, no, che su Facebook. Ah, sì, 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 l'ho messo su Facebook. Perché mi è arrivata la cosa. Vedo, vedo su Facebook e vedo... Allora, riesci, così riproviamo a entrare da qua, in qualche stanza. Ma non ti preoccupare che ti posso dare pure il link da qua su PS. Eh, dammi il link qua, così. Facciamo prima. Eccolo qua. Scusa io questi Giorgi, ma io sarò... Non ti preoccupare proprio, eh. Cioè, anzi. Se sei impegnato a me, mi va bene, perché significa che stai lavorando e ci guadagni i soldi. Io ho un Buster tutti i sabati. Purtroppo io lo posso fare tardi il venerdì, perché sono poco e ci vado. Capito. Comunque. Detto questo... Niente. Praticamente, quello che ho fatto... Ho spiegato un po' ai giocatori personaggi, dove si trovano i livelli. Che per adesso il clan system non c'è. Le armi, il market, e queste stronzate qua. All'inizio video. Poi, chi ci vuole vedere, ci vede. Chi non ci vuole vedere, paro pesce. Come si suol dire. Ah, ma ci sono pure io, si sente la mia voce qua. Eh, lo so, ma chiudilo, spegnilo la voce. Mutalo l'audio. E' normale, devo cambiare la descrizione con Crio e... Crocco. Ma nolle. Ti conviene rifarla e non parliamo quando lo fai? No, perché? Perché si sente noi che parliamo. Ma non fa niente. Devevo sentire noi che parliamo. O che non parliamo. Chi se ne frega. Se vogliamo guardare il gioco, se lo guardano. Se no, paro pesce. Come si suol dire. Adesso comincia la partita con un 40 secondi di attesa. All'incirca. La maggior parte delle volte, quando stai nella lobby. E con F1, F2, F3 si possono cambiare le armi. Mitragliatore piccolino, MP5, M4A1. E l'SA50, che sarebbe lo sniper. Ah, qui una cosa carina è il coltello. E' proprio molto carino. Vero, Calletto? Ti intrometto nella discussione. Wow, che bello. Come wow, che bello. No, comunque è. Il coltello, se è fatto bene, ti sciopera. No, vabbè, sì. Se lo sai usare, sì. Tu col cecchino, come sempre. Ecco il nostro carnetto. Certo, questa non è qua. Purtroppo il ping qua non è il massimo. Il ping qua non è il ping qua non è il ping qua. Il ping qua non è il ping. Do not lift him take that tunnel, no matter what. Callo, arriva uno. Alla porta. Sì, ok. Mamma mia, non gioco da una vita Vabbè, abbiamo conquistato il Termonale Non mi sa che cambio arma, prendo l'M41 Oh, è la prima partita del faccio del giorno, non vi lamentate se sto trucando, mamma mia Usa a grenade Cyber Sentry, ready for action This'll mess with their heads The enemy is using these sensors Come over there, there's a edge, wow non, non l'imposto anche se ti prendo entretto, non le kiwicki ti one shotta no di shotta ok va riam dietro bella carlo però il gioco da una vita non ho mira mi bella troppo dal mirino che partita si purtroppo è durata poco ma vabbè ogni giorno ti danno anche un certo bonus io ho preso il 300% di EXP stamattina un'altra cosa negli agenti potete instaurare un upgrade sono le abilità questo ti riduce l'ammontare di intel che ti servono per usare la tua skill che sarebbe la mia sarebbe il missile poi va in base ai personaggi la stessa cosa vale per gli altri personaggi I have to change my in game name e mettiamo demolition let's put demolition maybe there are there are people that speak english I don't know if someone want to try this game can download it from steam and can enjoy it it's a nice game look like something like black ops 2 with a fusion of halo yeah it's not so bad 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 Sì. 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 Un po' di bug. C'è la ruota. Beh, se sei in modo running, In running mode, you can push fast S and D to don't hear the sound to the enemy. Caution, seeker drone approaching. Under attack! Grenade, move! Shit. Bastard. Yeah. Let's take a sniper for the moment. They've planted a bomb. Confuse it immediately. Reloading! That was nice. Grenade incoming! They must take barriers up. Grenade out! Let's take some heads. They're close! Watch out! They're close! Watch out! There's only one enemy agent remaining. Take your time and finish this. That's so bad. Sì. Pensavo fosse morto. Dove stanno? Bomba B2. Sì. 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 Non ho tempo. Questà. Sì. Sì. ok sono morto Oh 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 Where are you? Il suo lavoro è stato fatto in defensa posizione. FIND THAT TARGET AND TAKE IT OUT. Sì La nostra bomba è in place, guarda l'occhio per gli agenti Crew in A, attento Arrivano da A Un altro job Un altro, l'hai visto? Sulla sinistra Dietro, dietro a te Metto Good job Scappa Vai, 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 vai in B Non ce la faccio tanto Non ce la facevo Che dovevo fare? Ah, hai fatto bene No, me l'avete lasciata in abusiva Una marina me l'avete lasciata I should've You're not scared C'è Sìììììììììììììììììììììììììììì! Sììììììò Cosa? Ah, che cazzo mi spingi? Cazzo mi spingi? Cazzo mi spingi? Cazzo mi spingi? Dice! Cazzo mi spingi? 3 3 ben planted protecto watch our backs one enemy agent left keep it up no nice Grazie a tutti. Uno in A. Sei morto? No. In A, sulla destra. Sta sulla destra. Sta andando verso B. Destra. Io abbiamo visto uno di da. Sei da solo. Bella. Attento, un altro arriva. Mannaggia. Ciao. GG Avanzo E' morto, uno nella porticina era E' morto 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 Perdi lo sto plantando vivo sta solo a sinistra mi avevo giocato in due praticamente manca poco, faccio pure il livello 24 niente male no, niente in quattro abbiamo giocato dai me lo poteva dare un premio lol sta all'87% me lo sarei meritato un premio non 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 rientrare un attimo carlo mhm ma sei uscito tu io si ora evitare ma giovanna giovanna boh se fa che senti io mo sto stremmando tu ce la vai su facebook si ma non c'entra mai ah ah lol infatti l'aveva detto 6.000 kill tonne tonne ho fatto buono io sto la 14.700 che livello sei? 20 buono la media 1.21 niente male niente male e sale molto buono no io ho una media ora di 1.50 molto buono che vogliamo fare termina questi manneggi ho credito che lanciarazzi tu che ti sei preso? il drone che rievo ti devi scaricare il need for speed gratis per una settimana sta su origin capito? no 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 invece di comprarlo lo prendi gratis ce l'hai una settimana l'hanno messo gratis no lo scarico no 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 uno sta al camion uno a fine porticina bella ok 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 Ah, shit. Bello Buongiorno Buongiorno Serve qualcuno che abbia foto, che abbia vita Eh vabbè Do not let them take that tunnel, no matter what Oh no, I see one, attack Let's send them a little surprise, see your drones out Come on Come on Come on C'è la cosa lì e non vanno Prendere il portale Sono nubi Eh muori Come on I'm sitting in a secret room Come on Che culo Sono morto You all did work today Good job Come ti pare lo streaming? Allo è... è burro Sì ma secondo me dovresti fare per partita In che senso? Perché poi te lo rallenta sempre di più E poi è complicato da caricare Poi diventa pesante Che senso è complicato da caricare? Che cos'è pesante come fai Che cos'è pesante come fai? Non li seguo Cosa è pesante? Tu quando fai lo streaming Tu non vai a... A registrare? Ahah Una volta che a registrare Puoi deve caricare No Quello va in live Non devo caricare niente Quello va diretto su Cioè subito No, ti prende solo la linea Eh? Si, si Prende solo la linea Non devo caricare niente Ma scusa Non lo vedi che noi stiamo giocando In questo momento Quello carica direttamente su Vabbè c'è quello sfalzio di 3-4 secondi Che sembra che sta indietro Però purtroppo quelle Cioè in live Non vuoi avere di più Pure se c'è una millemega Comunque sia Cioè lo sfalzo di... Io sto giocando benino qua Qua Questa partita 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 Vabbè ma io vi parlo Scalè comunque come ho detto Scaricati Need for Speed Mentre giochi va Così dopo ci andiamo a fare live Su Need for Speed Dove lo provo a scaricare? Finisco West Non me lo metto a scaricare Ok Spotted enemy seeker drone Arm launcher locked and loaded Enemy thermoptic barrier controlling Arm launcher approved Do not lift and take that terminal No matter what Oh shit from back Oh shit I've got the pets Ele Lustable Oh a doule Oh shit Oh shit uno è dentro sì sì che vogliamo fare? no ma tutti ce ne ho quattro davanti eh la parola è stata la bomba croc e li hanno fatto i pangapattori lo faccio a portare si sa che cosa lo faccio a portare è un piole crepato ai 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 si va è stato un po' di gioco è stato un po' di gioco no, era droppa Sì 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 what the fuck fucking team oh my god oh my god I'm sitting in a secret room I won't let you get away with this they've captured this network there's no way to recover get out of there now c'è una ricetta che hai fatto proprio schifo in tutto ho il telefono, mi schifo il telefono, mi schifo quello non è che ho fatto di meglio anzi ho un po' recuperato non ti preoccupi ho il telefono, mi schifo il telefono, mi schifo il telefono. Allora, quanti soldi hai? 24.000 Che cazzo ci hai fatto? Ho comprato il personaggio Ah, ecco perché Vabbè, la prossima cosa che ti consiglio di comprare è l'arma Sai quale? Quella nuova L'S25R Quello che assomiglia alla UGG No, al TAR-21 Su Warrock S25R È veloce Eh, purtroppo Lo so, fa pure un sacco di danni E non ci ha recall per niente Abbiamo avuto un altro spettatore a questi tempi Ieri sono arrivato a 5 spettatori Aspetta, c'è il telefono un attimo Aspetta, c'è il telefono un altro spettatore a 15 minuti Aspetta, c'è il telefono un altro spettatore a 15 minuti Ieri coi? Aspetta, c'è il telefono un altro spettatore a 15 minuti Oh Grazie a tutti. 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 Demolition. Grazie a tutti. 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 Shit. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Shit. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Sì, erano in sé. Si buttava la bomba alla faccia con la canda. Ma perché non l'hai buttata? L'ho buttata prima. Ma che ne sapevo che venivano i pezzi. Gli hack non mi funzionano in questo gioco. Come? Non lo preso. No, non lo preso. No, non lo preso. Comunque mi fa malagia. Lo so. Ancora a me un po'. Allora ti serve cura? No. Non muore questo Pinocchio. Non viene far loro questo. Vedo che. ... Comunque mi ha comprato questo. ... ... ... ... ... Sì, che cosa stai? Sì, che cosa stai? Sì, che cosa stai? Nanogel del cazzo F***ing caz F***ing b***h F***ing b***h Unplash D bruk F***s Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non lo so, ora vediamo. Eh, vedi tu, da tutta la finezza e metti qualche centimetro ad essere finissima. Ah, vabbè, minchia, bombe e buzzi di queste cose. Manco con l'invulnerabilità mi salvavo qua. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Vabbè. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Vabbè. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Vabbè. Oh, vabbè. 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 non c'è nulla no 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 eravamo uno spettatore sì sì prima eravamo 4 ma tu stai guardando ma questo non cretava la la no 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 ma Ok 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 Ma dai ma coprite C'è tutti invasi, c'è uno 3 davanti e due di lato Oh 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 sono italiano bene mi fa piace un qualche italiano mi guardi purtroppo non sono un streamer essendo che ho appena cominciato ma spero di non essere deludente in modo un certo un certo il fatto che i sono andati a presto 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 Siete! 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 Oh, abbiamo vinto? Bene. GTA? No, non ho GTA purtroppo. Cioè, purtroppo, diciamo che non è un gioco che mi interessa, perché altro, però è da provare. Ah, comunque, per chi non lo sappia, per chi sia amante dei giochi di gare, tipo Need for Speed, se lo volete, Need for Speed Most Wanted, lo potete scaricare tramite Arc... no, tramite Origin, scusate. Tramite Origin, lo trovate alle offerte. Steam o Origin? Origin, Origin, non su Steam. Voglio scaricare tutto? Eh sì, un attimo solo. Eh, che giochi ho? Veramente ne ho abbastanza, ma... Che ne so, Blade & Soul, Warrock, adesso mi devo andare a prendere CSGO e un altro gioco di sopravvivenza, che non mi ricordo il nome. E... niente, Final Fantasy XIV, Aion, roba del genere. Diciamo che sono molto propenso a tutto, diciamo. Però, GTA, sinceramente, non mi ha molto ispirato. Comunque, come potete vedere, su questo gioco, c'è stanno vari personaggi con le varie skill. Qualcuno che scrive su TS? Io ce l'ho scritto, poi vedo il link. Ok. Di Origin. Eh, il link di Origin, basta che vai su Origin, su Google. Che io tra un'oretta esco. Origin. Ok. Puntroppo devo staccare lo streaming che devo uscire anch'io adesso, quindi ti do il link di Origin adesso e ci becchiamo tra un'oretta. No, io lo ci sarò. Vabbè, sarà online, io comunque tra un'oretta, per chi c'ha voglia di guardare un po' di Most Wanted o altri giochi. Comunque, sia a coloro che stanno guardando, grazie. Buon game a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.